Non ho niente contro i tuoi amici, mi piacciono. Ma le cose per noi sono cambiate. Devo aiutare Charles a finire le riprese. Perché non vai in giro con ragazzini che non passano tutto il giorno tra cineprese e trucco da mostri? Chiudi gli occhi per favore. Sì. E... Azione! Ragazzi e tanti! Un treno merci ha deragliato. Ancora non sappiamo che tipo di carico trasportasse. Non possiamo dirlo. Non lo so. Capisco il suo interesse per il carico. Colonnello, c'è nient'altro che dovrei sapere? Te assicuro che la risposta è no. Sono stati ritrovati alcuni cani del posto, ma erano in tutt'altra zona. Lucy! È come se fossero scappati. Edifici danneggiati, furti. E sono scomparse nove persone. Qui stanno succedendo cose che non so spiegare. Dobbiamo trovarlo. Non mi sento tranquillo. L'ho visto. Nessuno mi crede. Io ti credo. Ma che diavolo... Amati! 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 Grazie a tutti